I sottoscritti Aldo Sensibile, Luigi Boccolini e Diego Gianattasio sono stati informati delle decisioni adottate in data odierna dai soci Annino De Finis, Giuseppe Roma, Roberto Galluzzo, Guido Sernicola, Mario Spinelli che hanno rassegnato le loro dimissioni in segno di protesta contro un pseudo presidente che ritiene di dirigere da solo l'intera società non come presidente ma come padrone. Da oggi dunque ma non per molto il Bindisi sarebbe senza allenatore e da solo il presidente Roberto Quarta rimasto al suo posto con il 90% delle quote che i soci dimissionari avrebbero rimesso nelle sue mani. Chi prenderà il loro posto? Sul fronte tecnico sembrerebbe già pronto sedersi sulla panchina del Brindisi in Mino Francioso anche se questa ipotesi non è ancora del tutto confermata dal presidente Biancoazzurro. Ci sono diversi nomi al vaglio a ferma Quarta, Francioso è solo uno di questi. Domani intanto la squadra sarà impegnata in terra campana contro l'Inter Napoli ed in panchina. Al posto del dimissionario Boccolini siederà Enzo Gagliano, il tecnico della Junores. Lunedì il presidente Biancoazzurro dovrebbe incontrare alcuni soggetti economici e addirittura un papabile patron di questo Brindisi per poter ripartire senza grandi traumi. Pare insomma che Quarta fosse già pronto a rimpiazzare tutti e dunque preparato a trovarsi momentaneamente da solo. Certo non sarà facile ricominciare, ora bisognerà conoscere prima di tutto il progetto del presidente, se è cambiato rispetto a quello iniziale e soprattutto conoscere al più presto i nuovi soci che dovranno portare nuova linfa nelle casse del Brindisi. Non sarà facile per la squadra affrontare il match di domani dopo il caos societario nelle ultime ore, ma Taurino e compagni, davvero i professionisti, proveranno ad estragnarsi e pensare almeno per i prossimi 90 minuti solo al calcio giocato.